Ora, non preoccupatevi che quella vi sono presentiva è solo l'intro del prossimo pezzo, e non è altro, è il prossimo, è il prossimo pezzo, è il prossimo pezzo, è il prossimo pezzo. Questa pezzo è quella di pensazioni, noi le descriviamo attraverso quella specie di amore mitologico, chiamatelo come volete, questo pezzo si intitola, si rende. Grazie a tutti.